Non si ferma nemmeno a Scerni la rincorsa dell'Aquila che inanella la quinta e lascia a bocca asciutto anche il Lanciano, ancora priva di Alessandro e Mantini. Epifani ripresenta Santirocco a scardinare il 3-5-2 rosso-nero di Ernesto Pingiotti che sostituisce in panca Daleno per un grave lutto in famiglia. Con le immagini di Mario Giacchetta andiamo a vedere che cosa è accaduto sul rettangolo verde, primi 15 minuti di gioco in cui le squadre si studiano sostando in zona centrale senza affondare attorno al quarto d'ora. Quindi l'Aquila prova a pigiare sul piede del Gas, uscita di la Cirignola su angolo rosso-blu teso e tagliato. E poi Marchionni riceve quasi al limite dell'area, punta la porta ancora all'estremo Lancianese a dire di no. Diciannovesimo, grandiosa cavalcata di San Rizzo sulla destra che però viene fermata in angolo. Pingiotti stringe i tre di difesa, attenziona a far scalare i quinti di centrocampo e mette temporaneamente il bavaglio alle offese rosso-blu. Al venticinquesimo un taglio in area dove si avventano la Cirignola e Santi Rocco dal groviglio il giallo. Sinceramente eccessivo per il numero 9 ospite e solo al trentunesimo, solo alla mezz'ora, il primo tiro verso la porta avversaria del Lanciano. Shot secco di Carissimi, sporcato da una deviazione che avrebbe potuto sbussolare Barbagallo che battezza la palla oltre la linea. Velleitario al trentasettesimo ma niente di più il drop di Diarrà che si perde oltre confine. Prima frazione di gara in archivio con due minuti di recupero. L'inizio di ripresa è vivace con rapidi capovolgimenti frontali. Poi l'episodio che dà la svolta alla contesa. Leggerezza difensiva al dodicesimo. Si complica la vita al Lanciano, la superficialità di Cassese, la tenacia di Carbonelli. Arnese rifila il rosso e concede la massima punizione dal dischetto all'Aquila. E così Marchionni imparabile. Gonfia il sacco per lo 0 a 1. Ventitreesimo insiste l'Aquila. Sarrizzo riceve una bella apertura. Si libera bene al tiro ma calcia male la conclusione. Pingiotti ai suoi in dieci prova a mettere dentro gente fresca che dia più corsa ma l'Aquila non cambia assolutamente musica. E a questa squadra non si può concedere un uomo in più. La timidezza del tiro di Fragassi al ventottesimo rende l'idea dell'innoquità rossonera. Al contrario la confezione di Marchionni per Scimia rende l'idea invece della forza rosso-blu 0 a 2. Trentaduesimo. Deve superarsi la Cirignora per evitare il pericolo che stavolta viene dall'appena entrato D'Ercole. Ma nulla può quando più tardi Rey chiude la percussione in ripartezza. 0-3 e gara chiusa. Allora mister, un primo tempo in cui al quarto d'ora avete avuto due occasioni, poi un po' di bavaglio ma nella ripresa non c'è stata pietà. Ma è quello che ho detto ieri in governanza stampa. Queste partite sono difficili per questo perché quando trovi le squadre che stanno tutti dentro a metà campo, tra l'altro hanno giocato anche a cinque dietro, ci voleva un guizzo, ci voleva una giocata. Il primo tempo forse siamo stati un po' lenti nel girare palla. Abbiamo sbagliato diversi passaggi che non è da noi, però ci può stare. Poi al secondo tempo siamo rientrati con un altro piglio e abbiamo portato a casa una vittoria importante perché poi sono partite difficili queste perché sembrano scontate ma non lo sono. Soprattutto Barbagallo è uscito con i guantoni puliti. Ma questo è un dato importante perché da un po' di partite non prendiamo tiri in porta. Quindi questo è una cosa importante. Ci lavoriamo tanto sulla fase di non possesso andando a prestare in avanti. Quindi siamo contenti di questo. È un dato molto importante perché se vuoi fare qualcosa di importante devi anche subire poco. Ripeto, adesso va tutto bene. Dobbiamo adesso ricaricare le pile per martedì e pensare alla prossima. Allora mister, oggi sostituisce Daleno. Avete tenuto botta nel primo tempo, poi nella ripresa l'episodio che ha dato la svolta alla gara. Sì, l'avevamo preparata così, di buon contenimento. E se potevamo fare male, l'avevamo studiata così. Nelle occasioni che potevamo uscire fuori dal guscio e cercare di fare male all'Aquila, l'abbiamo tentato di fare. L'avevamo studiata così, soprattutto di contenimento. La leggerezza difensiva però della ripresa vi ha condannato. Siamo stati bene fino al momento del gol, stavamo bene, concentrati, stavamo precisi, squadra corta. Poi c'è stato questo infortunio, non so adesso se era fallo, comunque l'arbitro ha dato rigore. Una volta che ha fischiato c'è stato l'1-0, poi c'è stata l'espulsione, in 10 è diventata più difficile perché abbiamo anche speso tanto il primo tempo, perché loro ci hanno fatto correre, però abbiamo corso anche bene, però abbiamo speso. E poi è normale che la partita ha preso una piega per loro. Buona.